Il piatto che voglio presentarvi oggi è un filetto di branzino in olio cottura aromatizzato alla verbena, foglie di limone e una grattugiata di buccia di limone e di arancia. È un piatto molto estivo, molto particolare, che ben si sposa con le calde e splendide giornate che abbiamo sul lago maggiore. Qui al fornello potrete degustare un piatto che ha dei ricordi e dei rimandi decisi ai giardini di Palazzo Borromeo. I fiori arrivano direttamente dalle limonaie di Palazzo Borromeo. Sono delle zagre di arancia amare, mentre all'interno della marinatura e dell'olio cottura poniamo delle foglie di limone e di mandarino sempre prese dalla balausta di limonaie che abbiamo sul palazzo. A guarnire il tutto mettiamo parecchie verdure che fanno molto estate e molto fresco. Mettiamo pomodori confit cotti una notte a forno spento con olio extravergine di oliva, sale e zucchero di canna. Mettiamo patate rat e patate violet per avere un colore migliore e un gusto più particolare. Guarniamo con delle foglie di verbena, dei fiori e delle immancabili foglie di basilico che possono essere stupende in abbinamento al nostro fresco pesce. In ultimo una stecca di lemongrass tagliata a metà e posizionata al fianco per dargli il giusto profumo e per guarnire un piatto decisamente estivo.